Conidi che imposta l'azione appoggiandosi su Fiorentino Francesco che poi allarga in direzione Marcovoci di prima verso Vatrella che viene fermato proprio all'ultimo momento da Morelli e attenzione c'è stato un fischio e fallo di mano a munizione per Morelli e quindi probabilmente calcio di rigore in favore del Monte Paone. Ha toccato quindi con un braccio Morelli, parte Vatrella, tiro, rete! Spiazza il portiere Gregorio Vatrella e va a ricevere l'abbraccio di tutta la panchina. Il fronti esce sconfitto ma a testa alta dal comunale Frabotto-Mannesi, rigore al secondo minuto del secondo tempo segnato da Vatrella e noi abbiamo cortesemente, si è venuto ai nostri microfoni, mister Andrea Cabidu. Che partita è stata dal vostro punto di vista? È stata una bella partita, noi l'avamo preparata bene, si era visto già dall'inizio della partita che insomma la partita era venuta anche a giocarcela, peccato perché secondo me ha rotto l'equilibrio di una partita con un rigore che anche i giocatori in campo hanno detto che non c'era, ha rotto l'equilibrio. Poi subito dopo c'è stato un fuorigioco che sinceramente era regolare e avremmo messo il risultato di nuovo sull'1-1. Però pazienza, la partita è stato contento dei miei ragazzi che hanno fatto una buona prestazione, faccio complimenti al mister Pisano perché ha una bella squadra, sapevamo di venire qui in Montepavone a giocarci una partita contro una squadra forte, penso che non siamo stati di meno rispetto a loro. Nel primo tempo probabilmente abbiamo avuto anche qualche occasione più nitida, però pazienza del calcio è anche questo qua. Noi in Telecroca abbiamo parlato di due squadre che forse meritano entrambe qualcosa di più della prima categoria, la mossa tattica di Carchedi che fraccompollava Mellace era studiata in partenza. Diciamo che abbiamo preparato la partita abbastanza bene, penso, quindi si è visto anche in campo. Secondo me, come hai detto tu, penso che entrambe meritano un altro tipo di categoria, però va bene, intanto siamo in questa e cerchiamo di fare bene in questa. E poi un'annotazione, mi sembra un fuoricuota russo che come Ienco col quale si è scontrato è fuoricuota ma molto bravo. Sì, sono dei buoni fuoricuota, Ienco, anche altro ragazzino che gioca a voi, non ricordo il nome, Doria se non sbaglio, ma quando i fuoricuota sono così è anche un piacere metterli in campo, due, tre, non è importante. Russo viene anche da categorie ammigliato nel Sambiasi, quindi è sempre un ragazzo valido. Quando il calcio è fatto da giovani che sanno giocare a calcio è soltanto un piacere vederli giocare. E abbiamo iniziato il 2017 con tanto fair play in campo e qui si vede la mano dei mister, non è solo tattica ma anche sapere educare i giocatori perché è stata una partita agonisticamente tirata ma correttissima. No, appunto, ma quello che ti dicevo anche prima, vedi, l'arbitro ha rotto l'equilibrio, non ha capito che la posta in palio era alta, doveva essere un po' più all'altezza, però in campo ci siamo giocati il secondo posto, coscienti che chi perdeva aveva tanto da rincorrere e nonostante tutto, come hai detto tu, c'è stato il fair play in campo, entrambi abbiamo cercato di pilotare le nostre squadre, un complimento al mister Pisano e penso che il calcio sia questo. Potremmo dire buon pomeriggio dal Polo Nord, però è un Polo Nord dove il Montepone va a più tre. Sì, siamo riusciti a portare a casa la cosa che diciamo che fondamentalmente è più importante, cioè i punti, anche se preferisco vedere prestazioni migliori. È normale che davanti avevamo una bella squadra, una squadra costruita per vincere, quindi è ovvio che la partita sia più insidiosa, sia più difficile. Noi credo che oggi abbiamo fatto una buona gara dal punto di vista dell'intensità, un po' meno dal punto di vista del palleggio perché abbiamo fatto qualche errore di troppo. Anche perché forse il campo non lo permetteva, abbiamo visto parecchie scivolate sugli esterni. Sì, sì, il campo sicuramente non era dei migliori, ma comunque la cosa importante per noi era quella di riuscire comunque a fare le cose che abbiamo provato durante la settimana. Diciamo che se si fa eccezione per troppi errori negli appoggi, anche se abbiamo fatto diversi allenamenti sul campo questa settimana proprio per abituarci a questo terreno di gioco, solitamente non abbiamo la possibilità di andarci, quindi abbiamo fatto una settimana tirata e fortunatamente è andata bene e credo che i risultati si siano visti. Mister, questo campionato si chiuderà con fronte Montepaone, ultima partita del girone di ritorno. Potrà essere importante o a quell'epoca entrambe avrete già staccato la Rombiolese? No, credo che sarà sicuramente importante, non credo che ci sia una velletta da parte nostra. Io spero che ci mettere la firma ad essere nelle zone alte della classifica, come è giusto che sia e come tutti si aspettano visto questo girone d'andata. Onestamente tutti questi punti non ce li aspettavamo, adesso che ce li abbiamo ce li teniamo ben stretti, ma li dobbiamo aumentare. Non mi interessa come sarà l'ultima giornata perché devo pensare alla prima del ritorno che è ancora più importante domenica prossima ancora in casa. Grazie. 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 Grazie.